buongiorno ragazzi per la rubrica se chiara può cucinarlo puoi farlo anche tu oggi vi spiegherò come fare la cheesecake ai frutti di bosco iniziando dagli ingredienti che sono questi che ora vi mostrerò ecco gli ingredienti di cui avete bisogno biscotti zucchero a velo ricotta che la mia di santa lucia di galbani 750 grammi panna da montare burro colla di pesce frutti di bosco ho diviso un po i biscotti li metto nel mixer e l'itrito abbiamo amalgamato ricotta panna zucchero a velo e palla di pesce in questa ciotola e ora la versiamo sopra la base di biscotto che abbiamo messo in freezer bello che cosa quella è una foglia amore è una foglia amore ti giuro è una foglia amore occhio final result you guys we're gonna have it after dinner today super proud of myself parrucca da 5 euro ma che c***o fai sto dormendo amore è uno scherzo amore ti stacco c***o farò un altro balletto con me non mi ricordo il nome della canzone però fa tac 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 preferivo un'altra causa da gasparri guarda molta probabilità che la ferri si fosse accorta che i capelli erano finti ma ha fatto finta di per poi costringermi a fare un tiktok con lei dove ballo cioè mi sono incastrato da solo praticamente di la verità ferri che lo sapevi che erano finti i capelli e mi ha obbligato a fare delle coreografie imbarazzate era uno scherzo cioè era una cosa troppo forte anche per te quindi sei falsa quanto ami la mamma? tanto? tanto quanto? tanto così così no così è poco si bravo così il giusto amore così si sì 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 e Grazie a tutti.